Gli uomini della protezione civile ci stanno facendo allontanare, la situazione è drammatica in questo momento qui a Maierato, sta venendo giù l'intero costone, dobbiamo allontanarci noi stessi, l'emergenza è ormai al massimo, si sono evacuate, continuano a dirci che dobbiamo spostarci perché il rischio è che anche i tradici della corrente vengano giù. Sono immagini drammatiche che in presa diretta vi stiamo offrendo, la collina qui a Maierato sta letteralmente venendo giù, c'è la necessità di evacuare, la situazione di pericolo peggiora di minuto in minuto. Filippo Fuori Fuori Stiamo assistendo a qualcosa di incredibile, sconvolgente Un'intera collina sta venendo giù davanti ai nostri occhi, è qualcosa di incredibile, di drammatico. Madonna E' pazzesco, incredibile. Correte, correte, correte. Madonna santissima, guarda come si muove. Tutti Via 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 Tutti Ma è rimasto qualcuno dentro, fuori Chi c'è, chi c'è? Via Chu crosses езco Fuori Fuori di qui, passiate dei pazzi ancora a rimanere Fuori 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 Via Divick Iscriversa Madonna santissima sta cammendo tutto qua fuori via 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 andiamo via 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 madonna che sta venendo adesso ragazzi patrice veniti qua 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 oi andiamo via dobbiamo domandare a qui c'è sempre vi è super la banca fate sgonderare il gioco della zona della banca ragazzi sgonderate dalla zona della banca grazie